Basta con il silenzio attorno al problema dell'autismo, le battaglie dell'associazione continuano e anche a Pagani rimane in prima linea, autismo fuori dal silenzio, l'associazione che ha accese i riflettori su una patologia che per anni è stata abistrattata, a dir poco. L'attenzione altissima e i responsabili dell'associazione sono stati i protagonisti di uno speciale appuntamento televisivo Focus condotto dal nostro direttore responsabile Aurora Torre. Dalla condizione dei bambini affetti d'autismo nelle scuole fino ai servizi offerti con grande impegno da enti e associazioni. Tra l'altro quest'estate è stato anche allestito per i piccoli che lottano quotidianamente contro l'autismo un campo estivo nella città di Capaccio, una spiaggetta privata che ha ospitato i giovani che hanno potuto essere seguiti da personale specializzato nel periodo di vacanza. Ma bisogna fare di più. La terapia ABBA, acronimo di Applied Biadorial Analysis, deve diventare realtà non solo in alcune zone della Campania ma ovunque. Ad adottarla con un progetto sperimentale è stata l'asle di Benevento. I genitori dei bambini colpiti d'autismo stanno chiedendo a gran voce, anche grazie alle associazioni, che si adeguino anche le altre asle regionali. La terapia ABBA permetterebbe di non vedere vanificati i numerosi sacrifici fatti per i loro figli da genitori che si dicono pronti anche ad azioni legali. Noi abbiamo partecipato a tutte le audizioni sia a livello nazionale che regionale proprio con la possibilità di poter far capire ai nostri registratori che ci sta un problema ed è un problema veramente serio, è un'epidemia. Ci sono tantissimi bambini che hanno questa patologia e che hanno bisogno immediato di interventi. Ma vedi che comunque la lungaggine c'è ancora tanto da fare, abbiamo aderito a proposte di leggi regionali che attualmente stanno ancora ferme, ne stanno proponendo ancora altre, ma vedo che non c'è una vera convinzione di quello che si deve fare. Noi come genitori ne siamo talmente convinti di quello che facciamo pure perché vediamo i risultati positivi dei nostri figli. Anche mio figlio inizialmente aveva avuto, quello che diceva inizialmente Paolo, la psicomotricità, tre interventi settimanali. Oggi mio figlio fa 40 ore di attività a settimana e lo fa finanziato dal mio reddito. Quindi voglio dire, anche se ci stiamo impoverendo, ma stiamo dando la possibilità comunque ai nostri figli di avere un futuro. Siamo pronti anche perché questa delibera che è stata fatta dall'azienda sanitaria di Benevento inquadra tutto quello che noi vogliamo per i nostri figli. Un supervisore, degli operatori ABA qualificati e un progetto individuato sul bambino. E quindi a 360 gradi ci sta l'intervento proposto sia all'interno del circuito familiare che extra-circuito familiare. Noi oggi siamo costretti anche ad accollarci quelle che sono le difficoltà scolastici dei nostri figli. Immaginate che finanziamo anche gli operatori che entrano all'interno dei circuiti scolastici e operano insieme con gli senali di sostegno con i nostri bambini. Quindi per dare la funzionalità anche adeguata al sistema scolastico.